ed eccoci di nuovo ritornati in studio la seconda parte del nostro appuntamento della sera da trascorrere insieme qui ad angoli ancora una volta vi ricordo il nostro indirizzo di posta per restare sempre in contatto con la nostra redazione basta inviare una mail ad angoli chiocciola espansionetv.it un ospite che è venuto a trovarci questa sera ve lo presento immediatamente saluto e ringrazio walter morganella ciao walter benvenuto grazie a te allora io dico subito che tu sei uno speaker radiofonico e un grandissimo comunicatore questa sera grandissimo lo dico e questa sera tra l'altro sei qui per presentare il tuo libro testa di radio eccolo qui qui dentro ci sono sicuramente molte storie molti anche segreti ma io so che tu lo consideri come tuo figlio questo libro è vero si ti lo dicevo prima questo sarebbe il mio secondo figlio il primo è stato quello che l'ho scritto più o meno un anno due anni fa in spagnolo e poi questo l'ho scritto l'anno scorso dedicato sono stato veramente non ti sto esagerando sono stato delle notti senza dormire addirittura perché mi venivano delle idee tantissime idee e poi per paura di dimenticarle mi alzavo e prendevo spunto quindi in ogni momento insomma dovevi assolutamente fissare quell'idea sì perché praticamente il metodo che ho usato è questo è stato se io adesso vorrei cominciare con la carriera di spicheraggio di cominciare a studiare quale sarebbe l'approccio che cosa come sarebbe il libro che mi piacerebbe leggere adesso se io cominciassi a studiare spicheraggio radio spicheraggio oggi e allora con quell'approccio ho deciso e ho cominciato avere tantissime idee per scrivere il libro che tra l'altro quando avevo cominciato trent'anni fa non esisteva un libro di queste caratteristiche e neanche adesso e tra l'altro questo è preziosissimo allora valter io gli ho detto che tu sei interessante tantissimo quindi entriamo un po di più anche nella tua storia insomma da dove da dove parte quello che tu sei ora questa passione parte dal 1987 quando c'era un ragazzo che la persona che ti sta parlando adesso trent'anni fa era un ragazzo e allora quel ragazzo lì si trovava in un quartiere di buenos aires a casa sua vuole ascoltare un po di musica lui aveva vent'anni e allora in quel momento lì a buenos aires c'erano soltanto tre o quattro stazioni di fm accende la radio nel vuoto fino a ieri con la frequenza non c'era niente niente in quel momento compare un altro ragazzo che presenta una canzone di the cure dal nulla immaginate la sorpresa di questo vent'anni quando ascolta quello era la nascita addirittura delle radio libere perché a buenos aires sono cominciate nel 1987 poi ho capito che qui sono cominciate nel 75 più o meno dieci anni prima certo e vabbè dopo quel ragazzo lì è rimasto affascinato è andato a visitare la quella radio lì quella radio abitente che si trova a pochi quindi hai voluto subito vedere e capire di cosa si trattasse certo perché era una novità assoluta e poi era la prima volta che entra uno studio del radio rimane fulgorato io rimango fulgorato affascinato con quel mondo che cosa ti ha colpito davvero quando sei entrato in questa radio la prima cosa quella che ancora adesso hai davanti agli occhi la cosa più bella la capacità il essere consapevole che gli stai dando compagnia magari una sola persona ma ma importantissima ma quella persona ti sta ascoltando e ti capisce anche tu lo capisci magari lui ti può capire anche perché si dopo si crea un legame così stretto anche l'affetto di emozione che fra il conduttore e l'ascoltatore che magari l'ascoltatore ti ascolta soltanto capirà anche a te sicuramente ti ascolta soltanto un minuto e lui capisce come ti trovi quel giorno qual è il più stato d'animo quel giorno è assolutamente così allora sono rimasto fulgorato io ho deciso detto in quel momento anch'io voglio fare questo e allora un grande potere secondo te la radio come strumento di comunicazione ma potere anche affettivo a questo punto secondo me e secondo tanti sicuramente fra i tuoi telespettatori di questa sera è lo strumento più potente di comunicazione che è stato che c'è e che ci sarà per sempre sempre nei lunghi viaggi in auto nei momenti di solitudine insomma la radio c'è quando quando fai i futi nel riva al mare certo con l'ipad o con il wallman dove vuoi dove vuoi ma torniamo valter a questo libro allora ricordo ancora testa di radio c'è stato un momento nel quale come dicevi anche di notte mi alzavo per scrivere per annotare le idee che volevo mettere qui dentro ma da dove parte qual è insomma il percorso che si trova all'interno di questo libro e magari il percorso il seme è stato quando avevo 10 12 anni e ma la sera quando andavo a letto portavo la raviolina la mettevo sotto il cuscino per ascoltare il mio programma preferito che sicuramente questo l'abbiamo fatto in tanti magari anche certo al volume pianino per non disturbare la famiglia e i genitori e poi però sono cose inspiegabili perché nessuno mi ha detto ascolta la radio ti deve piacere la radio ti deve piacere ascoltare a quell'uomo lì che ti parla ti presenta delle canzoni nessuno mi ha detto quello ma io ho scelto quello avevo la tendenza per perché quelle cose mi arrivassero anche al cuore all'anima certo e poi anche avevo facilità per per ascoltare e memorizzare i gigli della tv e dopo giocando li cantavo con i miei amichetti fuori no quando ci trovavamo quindi è ricorrente questo principio della compagnia del condividere comunque un'amicizia con qualcuno che fisicamente non conosci non ha incontrato però però c'è anche la sensazione di essere tu come ascoltatore tu inteso tu che parli e io che ti ascolto e insieme a me tante altre persone quindi si crea comunque una sensazione di condivisione poi altro fatto che ricordo benissimo quando avevo 12 anni con un mio vicino di casa lui aveva qualche vinile vecchio dello suo zio era era magari 1980 parlo vinili vecchi come adesso magari i ragazzi considerano vinili vecchi quello ascoltavo io vinili degli anni 80 e con quei vinili degli anni 70 avevo fatto a giocare un programma a radio e anche quella volta lì nessuno mi aveva detto sai che bella cosa perché non fai la simulazione di un programma a radio avevo preso un giradischi e quei vinili del mio amico dello suo zio e cominciò a parlare a giocare e senza spiegazione e quando invece questa questo sogno questa simulazione diventa qualche cosa di concreto poi e con un mio mio amico che ha fatto la scuola media con me quando più o meno avevamo 20 anni e già c'eravamo diplomati dei periti industriali e allora facendo un'analisi molto molto sensato molto serio molto responsabile avevo pensato ma quali sono le carriere dove ci sono più ragazzi una riflessione molto concreta devo dire e quindi la risposta abbiamo deciso e vabbè e possiamo scegliere o pubblicità grafica o spicheraggio e vabbè allora scegliamo spicheraggio e poi come abbiamo cominciato a prepararci con degli speaker con delle logopediste perché la c'è proprio l'albo degli speaker c'è l'academia a livello nazionale è stata fondata mi sembra dell'anno 40 è molto tradizionale e vabbè ci ha costato parecchio però finalmente ce l'avevamo fatta e nel 92 ho cominciato poi nel 94 mi sono il solo diplomato come come speaker sì e quindi lì è iniziata questa tua grande avventura e poi sì ho avuto la fortuna di lavorare in tante radio emittenti della zona di buenos aires quali sono i momenti ci sono dei momenti che tu ricordi con particolare affetto qualche aneddoto qualche situazione particolare in questo tuo lungo cammino di uno immagino adesso 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 per questa domanda non ero preparato bene però sicuramente ci saranno grazie tantissimo perché mi hai messo in difficoltà mi ricordo una volta che era in quel momento c'era un rocchettaro di moda no ma io non mi piaceva ascoltare la musica il rock di moda in quegli anni li ascoltavo altro tipo di musica no era musica un po più diciamo per gente un po più grande più lavorata non sarebbe una specie di hai visto per esempio quale stile lounge o quale col tipo di stile certo arriva questo rocchettaro e il ragazzo non della regime dice devi fare un'intervista io soltanto avevo e l'unici dati che avevo erano la locandina sua il nome e basta e basta sono raggiato e spero che sia andata perché non è andata bene perché non mi è risultato né niente quindi sono queste cose in contropiede un po quasi da calciatore argentino che sa cogliere al volo la palla che arriva sono le cose che ti possono capitare sicuramente anche a me assolutamente senti valter siamo quasi ai saluti perché il tempo è volato tu sei molto interessante come ho detto quindi spero vorrai tornare saranno ancora molte le insomma le cose che potrai sicuramente un minutino le parlo ai telespettatori che magari sono degli amanti della radio della comunicazione io non ti ho visto mai vita mia ma ti conosco perfettamente perché so come pensi e sono le cose che provi perché sono le stesse cose che io provavo 30 anni fa quando ho cominciato questo percorso meraviglioso se stai cercando un libro che ti dà la spinta e la motivazione per andare avanti è questo testa di radio l'ho scritto io umilmente ma ho messo tutto ci ho messo 30 anni per scrivere quel libro lì testa di radio la vera storia d'italia sulla radio e la comunicazione bene quindi detto questo una battuta flash prima di salutarci quanta responsabilità c'è in persone come te che fanno spicheraggio che quindi parlano a volte sconosciuti ma che invece ti seguono tantissimo che responsabilità c'è in 30 secondi infatti quello è quello il punto lo ha detto te la responsabilità elettica perché deve essere responsabile perché devi essere cosciente parlo anche a tutti gli influencer che ci sono adesso che soltanto di moda che devi essere cosciente che ti seguono tante persone magari quelli sono bambini o persone di una mentalità così fragile che prendono proprio alla parola esatta il 100 per cento come vero quello che tu le stai dicendo per favore avete coscienza di quello della responsabilità è fondamentale bene e con questo io saluto ringrazio walter morganella con il suo testa di radio spero davvero che tornerai perché sono tantissime le cose che tu con la tua grande responsabilità puoi raccontare a quelle che ci ascoltano grazie e a prestissimo viva la radio viva la radio certo e grazie anche a voi per essere stati con me come ogni sera tra poco rimanete lì la linea passa ai colleghi dell'informazione grazie a tutti